Eccoci, buonasera, tantissime cose di cui parlare in una giornata molto forte sulla scena internazionale. Pensate, innanzitutto, Dubai, la COP28, quanto abbiamo parlato, il cambiamento climatico, il mondo è pronto a una svolta, scomparso ogni riferimento all'uscita dalla dipendenza dal fossile. La verità è che poi alla fine i paesi che hanno nel loro sottosuolo le risorse, il petrolio e il gas, sono ben guardati dalla secondare un documento finale che sarebbe stato per loro controproducente, per i loro interessi immediati. Così si rischia, anzi è già praticamente quasi certo, un clamoroso fiasco della conferenza. Parleremo poi subito dopo dell'argomento che più, come si sa, fa ardere la scena italiana, la ratifica del MES. L'Italia è l'ultimo paese dei 27 a doverlo ancora ratificare col suo Parlamento. Meloni oggi ha spiegato con estrema chiarezza il suo punto di vista. Insomma, dobbiamo vedere tutto il contesto, se ci sta un patto di stabilità rinnovato in modo adeguato, se il quadro complessivo lo consente non ci sono problemi. E dice, ma perché i governi precedenti non l'hanno ratificato questo MES, riferendosi ovviamente al Conte 1, al Conte 2 e al governo Draghi. Fratelli d'Italia è l'unico partito che non era nella maggioranza di nessuno di questi tre governi. E le replica la Schlein, Ellie Schlein dal PD. Meloni sta semplicemente facendo un gioco delle tre carte. Ma vedremo anche che in realtà la scena è occupata dalle due guerre. Zelensky già a Washington, oggi ha parlato davanti alla National Defense University con il segretario della difesa Austin al fianco e ha chiesto un impegno forte e immediato, perché se no sarebbe un regalo di Natale a Putin. Ma è ovvio che del tema si parla, perché? Perché innanzitutto ne ha parlato stasera anche il nostro Consiglio di difesa, Mattarella, e il governo si deve confermare l'appoggio assoluto a Kiev. I rischi sono forti per tutti, ma soprattutto se ne parla giovedì al Consiglio europeo, lì i capi di Stato e di Governo dell'Unione si troveranno di fronte a un quadro cambiato. È vero che c'è Orban, che è deciso più che mai a contrastare nuovi aiuti a Kiev. Ed è vero che c'è un nuovo alleato per lui, perché Fizzo, il nuovo leader slovacco, è molto più filorusso. Ma è vero che da oggi la Polonia ha un nuovo governo, con quel Donald Tusk, che fu Presidente del Consiglio europeo, cioè del vertice a cui si prepara a partecipare la nuova Polonia. Lì è cambiata la posizione in senso filo europeo e anche filo Kiev. E lì si parlerà però anche della guerra di Gaza. Borrell, l'alto rappresentante, il ministro degli Esti dell'Europa, sta preparando un documento anche per considerare illegale, da condannare i coloni israeliani nei territori occupati, in un contesto che però è ancora di sostegno a Israele per la risposta a Hamas. Vedremo la situazione ovviamente sul campo. Ci sono molti fatti italiani di cui parleremo. C'è, come ogni lunedì, il nostro sondaggio sulle intenzioni di voto e c'è un fortissimo, a nostro avviso, data room di Milena Gabanelli sugli arretrati ingiustificabili della giustizia sui minori. 110 mila vicende di minori che non sono ancora state processate in nessun modo. una catastrofe, quindi dal punto di vista anche educativo, ma non soltanto. Questo è altro, un ricco telegiornale tra un minuto. La COP28 sui cambiamenti climatici si avvia alla conclusione con un clamoroso fallimento. Dall'ultima bozza all'accordo salta l'abbandono dei combustibili fossili. Come del resto avevano chiesto i paesi esportatori di petrolio. Nelle 21 pagine di testo addirittura le parole gas e petrolio non compaiono mai. Si facendo la riduzione sia del consumo che della produzione di combustibili fossili in modo giusto, ordinato e eco. E non è mai citata la parola uscita. In Italia a infiammare la discussione è l'adozione del MES. La Premier Meloni va oltre i distinguo della maggioranza e mette nel mirino le opposizioni. La questione del fondo salva stati è tutta italiana, è molto ideologica, dice prima della fonda al PD. Perché in un momento in cui tutti fanno salti mortali per reperire risorse nessuno lo attiva, nessun altro paese? Durissima la risposta di Schleini. Fai il gioco delle tre carte e qui non si discute di attivarlo ma di ratificarlo. Cosa che hanno fatto gli altri 26 paesi europei. Zelensky a Washington dove lo attende il compito forse più difficile all'inizio del conflitto con la Russia a convincere il congresso americano a sbloccare i fondi già bocciati dal Senato senza i quali l'Ucraina potrebbe capitolare. Per Zelensky che è intervenuto alla National Defense University l'obiettivo di Mosca è destabilizzare l'Occidente. Accontentarlo sarebbe un regalo a Putin. Domani il vertice con Biden. E giovedì anche l'Europa sarà chiamata a decidere. C'è il vertice, il summit dei capi di Stato e di governo sulla questione dell'adesione ucraina. L'Unione Europea al momento tutto è bloccato per l'opposizione di Orban che dalla sua parte ha la Slovacchia filorussa dopo le scorse elezioni. Ma non più la Polonia che proverà a avere un governo con l'europeista Tusk che oggi ha avuto il sì del Parlamento di Varsavia. Si annuncia uno scontro anche sul conflitto israele-Hamas. Italia, Francia e Germania si schierano a favore della proposta della Commissione di sanzionare i dirigenti di Hamas e i gruppi affiliati. In solidarietà con Israele. La giustizia minorile è un'altra vera emergenza di questo paese. In Italia ci sono 29 tribunali per minorenni che hanno quasi 110.000 cause arretrate perché mancano giudici, ma anche gli operatori, psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e personale amministrativo. Ma dietro le carte e le procedure c'è la fragilità e il futuro di quei tanti giovani che rischiano di non essere più recuperati. Ne parla Milena Gabanelli nel suo Data Room. Buonasera, tantissime notizie, molte dall'estero, ma che ci riguardano praticamente tutte direttamente. Ci riguarda direttamente, è sicuro, il fallimento che si delinea alla Conferenza Mondiale sul Clima, COP28, a Dubai. Perché, come nelle funeste previsioni negli ultimi giorni, nei presagi che derivavano dietro le quinte, si materializza un documento finale che, ed è l'unica cosa di ecologico, sembra acqua fresca. Deludente, chiaramente insufficiente, non adeguata ad affrontare il problema. Le parole sono del caponegoziatore dell'Unione Europea, la COP28, Wopke Oxtra, e riflettono il pensiero della stragrande maggioranza degli stati sulla bozza finale del vertice, fatta circolare dalla presidenza degli Emirati Arabi. A 24 ore dalla fine dei lavori, ma si può tranquillamente andare oltre, la nuova conferenza sul clima è ad un passo da un fallimento fragoroso perché la frattura tra quasi tutti gli stati ed il manipolo dei paesi produttori di combustibili fossili guidati dall'OPEC appare al momento insanabile. Il cartello petrolifero ha ufficialmente invitato i membri a sterilizzare ogni dichiarazione che porti a ridurre l'estrazione di petrolio, carbone e gas sullo sfondo anche alla sapiente regia della Russia dopo il viaggio nei giorni scorsi di Vladimir Putin in Arabia Saudita proprio per trovare un fronte comune tra i paesi produttori ed esportatori. La materia del contendere è quella più importante in tema di clima. Nella bozza mancano parole chiare ed inequivocabili sul rapporto diretto ormai inconfutabile scientificamente tra combustibili fossili e l'effetto serra. Dunque manca un cammino chiaro per l'uscita o quantomeno per un taglio consistente entro il 2030 necessario a centrare l'obiettivo di Parigi 2015, contenere l'aumento medio della temperatura ad 1,5 o comunque sotto i due gradi rispetto ai livelli preindustriali. Siamo in una corsa contro il tempo, ha ribadito il segretario generale delle Nazioni Unite Gutierrez. Ora è il momento della massima ambizione e flessibilità. Il negoziato è nelle mani di quest'uomo, Sultan Al-Jaber, e già la sua figura è un coacerbo di conflitti di interesse. Al-Jaber è amministratore delegato della Compagnia Petrolifera di Stato degli Emirati Arabi Uniti, padrone di casa, membro importante dell'OPEC e guida nel contempo un'impresa di rinnovabili. Il fallimento non è un'opzione, ha avvertito ieri, e tuttavia la sua presidenza sta scontentando molti e polarizzando le posizioni, rendendo ad oggi assai difficile ottenere l'approvazione di tutti i 197 stati sul documento finale. Non possiamo firmare, hanno già fatto sapere i paesi più esposti alle conseguenze dell'innanzamento del clima, come le isole pacifiche, sarebbe la nostra condanna a morte. Come vedete è quasi inconciliabile le contraddizioni e le convenienze che emergono e viene da chiedersi, ma era proprio impensabile che se una conferenza sul clima si tiene a Dubai poi spuntano fuori queste cose. Andiamo a vedere però la contraddizione europea invece che riguarda l'Italia, l'ultimo paese a dover ancora ratificare col suo Parlamento il sistema del Fondo Salva Stati, il MES. Spiragli, dice Giorgia Meloni presentando a Roma, collegamento Palazzo Chigi, il libro fotografico dell'ANSA sul 2023. Spiragli per una soluzione del patto di stabilità, quel patto che la maggioranza considera il contrappeso per il disco verde al MES, il meccanismo europeo, istituito nel 2012 a sostegno dei paesi membri in difficoltà, ratificato da tutti, tranne l'Italia. Semmai ci si dovrebbe interrogare sulla ragione per la quale in un momento nel quale tutti quanti facciamo i salti mortali per reperire le risorse e nessuno voglia attivarlo. Semmai quello sarebbe il dibattito da aprire. Il contesto, perché quello sul MES è un dibattito molto ideologico e molto italiano, perché bisogna porsi il problema del messaggio. Una volta attivato il MES, che tipo di messaggio si dà al resto del mondo? Insomma, parliamo di strumenti e non di totem ideologici. Quando tutto sarà chiaro, ci muoveremo. E poi l'affondo. Voi, che siete stati al governo per quattro anni, se il MES era così fondamentale, perché non l'avete ratificato in tempi rapidi? Affondo bruciante e la quasi certezza che a questo punto il MES slitterà. La ratifica si allontana. La data di giovedì 14 dicembre, quel giorno è in calendario alla Camera, è già superata. Del resto, la Lega nei giorni scorsi aveva avvertito, con il capogruppo Molinari, non credo proprio che il 14 discuteremo in aula del MES. La parola d'ordine della maggioranza adesso è deroga, perché ci sono provvedimenti che vengono prima, lo dice il ministro Giorgetti e lo dice il leader di Forza Italia e ministro degli esteri, Tajani. Ma siccome il MES, dice Meloni, testimonia la strumentalità di certe posizioni, ecco che torna la polemica. Leggevo stamattina la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, che diceva non possiamo tenere ferma tutta l'Europa e forse la segretaria del Partito Democratico non sa che il MES è uno strumento che esiste, che chi lo vuole attivare lo può tranquillamente attivare. Ma questo è il gioco delle tre carte, replica dal nazareno Ellie Schlein, che spiega ciò di cui si discute. Non è l'attivazione del MES, ma la ratifica del trattato che lo modifica. 26 paesi su 27 hanno già ratificato le modifiche. Rimane solo l'Italia. Governare significa assumersi delle responsabilità. E questa sera si è riunito il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale, col Presidente della Repubblica che lo guida, che lo presiede, e gli esponenti del governo, a cominciare da Giorgia Meloni. Hanno parlato soprattutto, e lo si evince dal documento finale, di Ucraina. Esaminata la situazione della guerra in Ucraina, si è ribadita la ferma condanna dell'aggressione operata dalla Federazione Russa, e il pieno sostegno dell'Italia all'Ucraina nella sua difesa contro l'invasore. Il Consiglio ha convenuto sulla ricerca, in stretto accordo tra i partner europei e atlantici, di prospettive che permettano di giungere a una pace che sia giusta e duratura in confermità al diritto internazionale per l'avvio di un piano di ricostruzione dell'Ucraina. Sono parole che vanno verso il vertice europeo che si tiene giovedì a Bruxelles e vanno soprattutto verso Washington. Perché? Vediamo. È accolto con un applauso Volody Mirzeneski nel suo primo intervento del nuovo viaggio americano, quello più difficile da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, quasi due anni fa. Il Presidente deve convincere il Congresso a sbloccare quei fondi che la scorsa settimana sono stati bocciati dal Senato e senza i quali Kiev rischia di capitolare. Sono 60 miliardi di dollari necessari a rifornire gli arsenali agli sgoccioli, fondamentali per contrastare i russi, ora soprattutto a Adipka e a sud del Dnipro. Per Zelensky e l'Ucraina il momento è cruciale, per questo il Presidente ha preparato il terreno all'incontro con Joe Biden e con lo speaker della Camera Johnson, previsti per domani, con un discorso alla National Defense University, dove è arrivato col segretario alla difesa Lloyd Austin. I ritardi del Congresso fanno il gioco di Putin, che nel frattempo sta cercando alleati all'estero, favorito anche dalla disinformazione o un'altra arma potente in mano russa, ha detto Zelensky. Mosca, per il Presidente, sta anche dietro la guerra tra Israele e Hamas e dietro le manovre del Venezuela di Maduro sulla Guyana. Soprattutto per il Presidente, quella contro l'Ucraina è una guerra contro l'Europa libera. Gli europei, gli americani, i paesi della Nato saranno più sicuri se noi vinceremo. Putin deve essere fermato, ha chiusato Zelensky, deve perdere questa guerra, ma proprio per questo c'è bisogno di quei 60 miliardi di dollari ancora fermi tra le manovre del Congresso. A Washington, Zelensky è arrivato dall'Argentina, dove ha partecipato all'insediamento del nuovo capo di Stato, Javier Milei, che ha scelto di non aderire ai BRICS e ha chiarito così la sua posizione nella ragnatela di alleanze. Dalla parte dell'Ucraina, non di Putin, che appare però galvanizzato dal momento di crisi di Kiev per la mancanza di armi. Oggi è andato a inaugurare due nuovi sottomarini a propulsione nucleare. E come si diceva, citando il documento finale del Consiglio di Difesa italiano, quello dell'Ucraina, della guerra e di come continuare e se continuare a aiutare Kiev, è il tema dominante del Consiglio europeo, il vertice dei capi di Stato e del governo dei 27, che si riunisce tra tre giorni a Bruxelles. Perché il tema sarebbe quello dell'adesione dell'Ucraina all'Unione europea, ma c'è, come si sa, chi rema contro. A Est c'è molto di nuovo. La guerra in Ucraina ha sconvolto equilibri, distrutto alleanze, ne ha create di nuove e cambiato molte prospettive verso Bruxelles. Tra pochi giorni si apre un vertice UE che definire storico non è eccessivo. dovrà dare verdetti, tra gli altri, su due temi fondamentali, dare soldi all'Ucraina, 50 miliardi per tirare avanti e soprattutto dare un sì o un no all'avvio dei negoziati di adesione. Dice Zelensky che per il morale degli ucraini questo è ancora più importante delle armi e del denaro stesso. Gli occhi sono puntati ancora una volta su di lui. Vittor Orbán, il bastian contrario, l'amico di Putin, l'uomo che continua a ribadire il suo no. Anche il suo ministro degli esteri, Siarto, ha detto oggi a chiare lettera al suo collega ucraino Kulieva che per Budapest c'è ancora molta strada che l'Ucraina deve fare prima di aspirare ad entrare. Ma Orbán è rimasto praticamente da solo. La paura dopo l'invasione russa gli ha sgretolato intorno il consenso di quello che era un tempo un blocco di paesi tra i più compatti dell'Unione, il blocco di Visegrad. Certo in Slovacchia è tornato al potere, Fizzo in campagna elettorale ha sbandierato il no a nuove armi a Kiev ma alla fine era più propaganda che altro, gli arsenali di Bratislava erano di fatto già quasi vuoti. Ma da oggi l'est gira decisamente pagina con il più grande e il più ricco dei paesi entrati dopo la fine della guerra fredda alla Polonia che oggi dopo otto anni ha detto addio all'era di uno dei governi sempre pronti a mettersi in rotta di collisione con Bruxelles quello di Mateusz Morawiecki o meglio quello di Kaczynski. Un'era in cui lo scontro era stato rovente fino al blocco dei fondi dell'UE a un paese accusato di cercare di non aderire più ai principi fondamentali come quello del rispetto della legge e della separazione dei poteri. Oggi a Varsavia torna un vecchio amico dell'Unione, quel Donald Tusk che fu presidente del Consiglio europeo che è tornato a far politica a Varsavia proprio per riportare il suo paese nel campo europeista e non è certo un caso che oggi che diventa nuovo capo del governo arrivino le calde congratulazioni di Ursula von der Leyen. Ma si va in questo Consiglio europeo di cui si parlerà tanto nei prossimi giorni anche a decisioni su Gaza che sono importanti perché da un lato si riconfermerà il sostegno, il diritto di risposta militare di Israele dopo la carneficina di Hamas del 7 ottobre. Ma si parla anche della possibilità di intervenire con una censura forte sui coloni israeliani in Cisgiordania. Insomma, posizioni difficili da mettere insieme ma ci proverà proprio quello che è il ministro degli esteri dell'Unione europea. Non c'è alcuna opposizione a sanzionare i vertici di Hamas così come proposto da Germania, Francia e Italia dichiara l'alto rappresentante dell'Unione europea Borrell al termine del Consiglio affari esteri di oggi. Precisando però di aver notato come alcuni paesi nel tentativo di mantenere una posizione la più neutrale possibile abbiano chiesto anche misure contro la violenza dei coloni ebrei in Palestina. Tra le proposte dei 27 ci sono anche la richiesta al governo di Tel Aviv di non spostare la popolazione di Gaza e di non occupare la striscia ma soprattutto gli stati membri sono concordi nella richiesta di pause umanitarie. Mosca intanto torna a chiedere ad Hamas il rilascio immediato di tutti gli ostaggi i combattenti nella striscia non si fermano e sono almeno 18.800 i morti il 70% dei quali bambini, riferisce il ministero della sanità palestinese. Domani, su richiesta dei rappresentanti dell'Organizzazione per la cooperazione islamica e del gruppo arabo, si terrà una riunione straordinaria dell'Assemblea generale obiettivo, votare una bozza di testo che riprenderà in gran parte la risoluzione respinta venerdì scorso per il veto degli Stati Uniti. A Rafa, la visita di una delegazione del Consiglio di Sicurezza è stata contestata dall'ambasciatore israeliano all'ONU Gilad Erdan che l'ha definita di parte. Si preoccupano solo degli abitanti di Gaza ignorando la sofferenza degli israeliani e il destino degli ostaggi, ha detto. Tutto questo mentre il governo britannico starebbe valutando insieme con la controparte americana la possibilità di introdurre il travel ban, il divieto di viaggio per i coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Ma per chi abbia la doppia cittadinanza non c'è, almeno per ora, divieto che tenga. Israele ha usato munizioni al fosforo bianco fornite dagli Stati Uniti in un attacco nel villaggio di Daita nel sud del Libano lo scorso ottobre, rivela il Washington Post, nell'analisi dei frammenti di tre proiettili da 155 mm. Accusa già lanciata da Amnesty International e Human Rights Watch e oggi ammessa anche dal governo americano. Il portavoce della sicurezza nazionale della Casa Bianca Kirby ha espresso preoccupazione e cercherà sul caso maggiori informazioni. Vedete, ci sono molte storie internazionali, molte vicende, due guerre e una conferenza che sta fallendo sul clima. Sono le questioni che ci riguardano e che ci riguardano molto. Andiamo però brevemente ai fatti della cronaca italiana e tornate intanto alla normalità, la circolazione ferroviaria per quanto riguarda l'alta velocità e i treni regionali sulle tratte tra Bologna e Rimini e Bologna-Ancona dopo il contatto di ieri sera tra due convogli vicino a Faenza. Sarà la procura di Ravenna a fare chiarezza sull'incidente, ha aperto un fascicolo contro i gnoti per disastro ferroviario. Oggi sono state anche dimesse le sei persone rimaste contuse in modo lieve per l'urto tra un frecciarossa e un regionale che viaggiavano nella stessa direzione. Il convoglio dell'alta velocità che si era fermato si è mosso all'indietro per inerzia, un tratto in pendenza urtando il treno regionale anch'esso fermo sullo stesso binario. Per tutta la mattinata pesanti ritardi, problemi per i viaggiatori soprattutto nelle regioni adriatiche. Poi ci sono due vicende che abbiamo trattato proprio venerdì insieme. Da un lato Danilo Coppola, l'uomo d'affari, uno dei furbetti del quartierino, abbiamo ricordato molto che era stato fermato a Dubai. E allora è stato rilasciato, e questa è la notizia dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti, perché è in attesa del procedimento di estradizione e in realtà si era sempre mostrato apertamente in pubblico, non era un uomo in fuga, non è quindi necessaria la custodia cautelare. Coppola vive stabilmente a Dubai, era stato arrestato la settimana scorsa appunto mentre si trovava nella zona su mandato d'arresto internazionale emesso dalla procura di Milano. Poi c'è un'altra vicenda proprio che è esplosa nello stesso giorno, quella riguardante Rudy Guedet, l'uomo l'unico che è stato condannato per il concorso nell'omicidio di Amanda Dimeretit Karcher, insieme poi ricordate Amanda Knox e Raffaele Sollecito furono scarcerati. La pena scontata in parte è in carcere, poi un'altra è in stato di pena alternativa lavorando all'esterno del carcere. È stato accusato nei giorni scorsi di avere in qualche modo ha usato violenza nei confronti di quella che era la sua fidanzata. Oggi è stato interrogato per due ore dai magistrati, gli hanno imposto il divieto di avvicinamento alla donna, oltre che la misura del braccialetto elettronico. Guedet ha respinto le accuse di violenza, maltrattamenti e lesioni scaturate dalla denuncia della giovane. Non le ho mai fatto violenza, ha detto al giudice. Il legale ha chiesto la revoca delle misure restrittive disposte a suo carico. Dobbiamo parlarvi di uno che se n'è andato, uno di noi, un uomo che ha costruito tanti, tanti anni fa, tanti decenni fa, quello che ha detto il nostro telegiornale. Era il 1986, la TV che state seguendo aveva un altro nome, Telemonte Carlo, nome Glamour, proprietà straniera, la brasiliana Rede Globo. A guidare l'informazione fino al 1992, Riccardo Pereira, un direttore giovane, 35 anni, talentuoso inviato il reporter in giro per il mondo. Ricordarlo oggi è doveroso, inevitabile quanto la commozione per la sua scomparsa, che si lega indissolubilmente alla redazione giornalistica del nostro TG, gran parte della quale è cresciuta, plasmata e maturata con lui. Precursore dell'All News, Pereira, Riccardo, con una C per gli amici, fece di TMC un vascello corsaro fra i colosse della TV, dando moda ad una generazione di giornalisti e producer, ancora oggi, volti dei nostri notiziari o responsabili delle edizioni, di temprarsi nelle dirette, di confezionare servizi con la giusta grammatica televisiva, in sintesi, qualità e sostanza. Dai grandi eventi mondiali ai programmi sportivi e lo sport per Telemonte Carlo fu terreno di innovazione assoluta, ex campioni che commentavano le gesta dei campioni come tomba, che a loro volta hanno potuto raccontare in prima persona le loro emozioni, mai visto prima. Senza contare poi gli espluade la vela con l'America's Cup, grazie alle notti magiche del Moro di Venezia o il debutto di Alba Parietti sullo sgabello di Galagol. Era il 1990. Una ricchezza nelle immagini, freschezza e qualità che sembrano perdersi negli archivi del passato. Eppure oggi, che il ricordo di Pereira si vena di malinconia, il telespettatore capirà come questo TG ha avuto proprio nell'informazione il suo DNA, il suo filo continuo da Telemonte Carlo alla 7. Giusto ricordare, abbiamo una pagina, come sempre nel lunedì, che è importante, quella che riguarda Milena Gavanelli e il suo data room, ma anche abbiamo prima un'altra pagina rituale di questo primo giorno della settimana, quella dei sondaggi, l'intenzione di voto. Come andrebbe se si votasse oggi? Vediamo. Fratelli d'Italia riguadagna uno 0,1 al 28,2. Partito Democratico più 0,3 al 19,6. Quello al 0,3 che perde il Movimento 5 Stelle, 16,4. La Lega più 0,2 al 9,4. Forza Italia 7,2 meno 0,1. Azione 3,6 meno 0,2. Verdi e sinistra 3,3 meno 0,1. Poi Italia Viva 3,2 stabile. Più Europa 2,6 meno 0,1. Per l'Italia con paragone 1,9 più 0,1. Unione Popolare 1,6 più 0,2. Noi moderati 1,2% più 0,2. E quindi ora il data room su un tema spinoso, difficile, su quello che riteniamo davvero si possa considerare una vergogna italiana. In Italia ci sono 29 tribunali dei minorenni, tutti completamente sotto organico. Con Simona Ravizza ci abbiamo guardato dentro, tradotto in fascicoli arretrati 108 mila. Sono 8.003 a Roma, 5.005 a Napoli, 10.100 a Bologna, 12.006 a Milano, dove ogni giudice ha sul tavolo 974 pendenze e ogni anno 562 nuovi casi. Dietro ad ogni fascicolo c'è un minore e il suo destino. Vincenzo, 12 anni, si ferisce volontariamente. La scuola informa i servizi sociali e dopo una diagnosi di disturbo depressivo arriva la decisione del Tribunale dei minorenni. Deve andare dallo psicologo e ai genitori va affiancato un educatore a domicilio. I servizi sociali non si attivano e il giudice non sollecita perché ha altre urgenze. Vincenzo lascia la scuola, comincia a drogarsi, a 16 anni ritorna al Tribunale dei minori, stavolta davanti al giudice penale per furto e spaccio. Marina è stata abusata sessualmente fra gli 8 e i 10 anni dal compagno della madre. Si apre il procedimento penale che porta alla condanna dell'uomo. La ragazzina ha bisogno di terapia psicologica che viene interrotta dopo sei sedute perché all'operatore è scaduto il contratto con la cooperativa. Nel frattempo Marina comincia a saltare ripetutamente la scuola, scappa da casa e inizia l'uso di sostanze stupefacenti. Francesca era stata inserita in comunità con il figlio di 4 anni, Gabriele, per alcol dipendenza. Dopo due anni tornano a casa. È prevista l'attivazione di un educatore domiciliare per il reinserimento nella vita normale e la presa in carico del gruppo operativo Alcologia. Nel passaggio di competenze fra i servizi sociali che la seguivano in comunità e quelli del nuovo comune di residenza a cui è passato il caso, l'educatore domiciliare non si trova. Dopo sei mesi Francesca torna a bere e Gabriele non va a scuola. Ad oggi le competenze sono divise fra il tribunale ordinario che interviene sulle separazioni dei genitori, il tribunale dei minorenni che interviene per le adozioni, gli affidi e ogni volta che un problema coinvolge un minore e il giudice tutelare. Bene, nessuno dei tre riesce a vedere tutte le carte che riguardano lo stesso minore. Da ottobre 2024, riforma Cartabia, tutti i procedimenti dovrebbero invece essere riuniti in un tribunale unico. Ma se l'organico rimane lo stesso, eppure i fondi destinati al sostegno e alle terapie dei minori e dei genitori, cambia poco. Le conseguenze poi le vediamo quando finiscono in cronaca. Allora Milena, è uno dei più scandalosi fatti che sono stati messi in luce dal tuo data room e sì che ne abbiamo viste di tutti i colori, però qui quando si tratta dei minori, si tratta di inadempienza che vuol dire spesso rovinare le loro vite, è qualcosa di diverso. C'è qualcosa che si può fare adesso, dopo aver visto tutto questo? Che cosa si può fare? Se gli organici con una bacchetta magica oppure con un intervento adeguato che sarebbe necessario venissero appunto resi adeguati alle necessità, quanto tempo ci vuole per riassorbire 110.000 arretrati? Allora, 110.000 fascicoli, ricordiamolo, che non sono solo numeri, ma dietro c'è veramente la vita di un minore. Ora, con una bacchetta magica purtroppo non si fa nulla, ma il tema è che non c'è nemmeno la bacchetta magica, cioè non è previsto uno stanziamento di un euro in più, di quello che è già previsto per il sostegno sia alle famiglie che hanno ovviamente dei problemi che non sono in grado e ai bambini che hanno subito traumi o sui quali è doveroso intervenire e intervenire in fretta. Quindi non si parla di aiuto al sostegno e l'organico tal quale. Ora, sarebbe già una cosa se l'organico, perlomeno quello che è previsto nella pianta organica, venisse dato, metà dei tribunali, cioè a Milano per esempio, sono previsti 18 giudici, ne mancano 5. A Roma ne sono previsti 19 e ne mancano 4. Poi c'è Ancona, Genova, Venezia. Insomma, metà dei tribunali non ha i giudici che sono previsti dalla pianta organica, quindi non è che uno dice te ne devo dar di più, dovrei proprio darti quelli lì. A tutti invece manca il personale amministrativo. Poi ci sono dei casi che sono fuori parametro, per esempio Bologna ha i giudici previsti dalla pianta organica, 10.100 arretrati, non si spiegano, quindi vuol dire che c'è una problematicità, ma se nessuno va a vedere negli uffici fuori parametro quali sono le problematicità, è evidente che te le trascini. Allora, tu dici giustamente il caso di Bologna, che magari avrà giustificazioni, spiegazioni, che però non si vedono a occhio. Ma sicuramente, certo. Però non sono notizie, non sono numeri dell'ultimo anno. Ogni anno il giudiziario si apre, la magistratura ha degli elementi di controllo interno, e c'è l'autogoverno dei magistrati. E' possibile che nessuno si sia reso conto, perché avere 10.000 in arretrati casi, che sono appunto minori, che rischiano di diventare, rischiano qualsiasi cosa, per dire il vero. Rischiano di compromettere la loro vita adulta, perché questa poi è la ricaduta. E' una bomba sociale, si dice sempre, questa è veramente una bomba sociale, disseminata su tutto il territorio. E' possibile che nessuno abbia mai lanciato un allarme, che ogni anno, invece di dire cose che spesso si dicono pomposamente dalla magistratura e anche dalla politica, non si indichi questo, che è un argomento fortissimo e gravissimo. Guarda, la cosa ha sorpreso anche noi, cioè io e Simona Ravizia, che abbiamo scandagliato dentro a ogni singolo tribunale, è veramente, lascia veramente interdetti, sono invisibili. E' come se non esistessero, e nessuno se ne preoccupa. E' questo che è incivile alla fine. Anche all'inizio, dall'inizio alla fine. E grazie Milena di averci fatto scoprire questa piaga ulteriore, su cui torniamo. Voglio aggiungere, voglio aggiungere, scusami, parliamo molto di famiglia, no? La famiglia prima di tutto. Ecco, dentro la famiglia c'è questa cosa. Mi auguro che chi di dovere lo veda e intervenga, perché non si può, insomma, come dire... E spesso è dove non c'è famiglia. Un bambino di sei anni, tradotto in concreto, se un bambino di sei anni ha subito un trauma e ha bisogno di un'assistenza psicologica, se va bene gli viene data quando ne ha otto, se va male quando ne ha dieci. Allora. Chiaro. Non serve più dopo. Grazie Milena. Prima di dirvi gli ospiti di Lili Gruber a otto e mezzo e di dirvi cosa c'è nella torre di Babele di Corrado Augias, è doveroso dire che Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, rispettivamente al tempo presidente, amministratore e delegato del Monte dei Paschi di Siena, sono stati assolti in appello a Milano nel processo sulla vicenda dei derivati Alexandria e Santorini, contabilizzati nei conti della capofila senenese per coprire le perdite dopo l'acquisto di Anton Veneta. Erano accusati di falso in bilancio e aggiotaggio. In primo grado erano stati condannati a sei anni. Oggi la soluzione, perché il fatto non sussiste, anche per Paolo Salvadori, allora presidente del collegio sindacale. Demmo adeguatamente la notizia della condanna a suo tempo, è altrettanto doveroso darne, scandendola bene, la notizia della soluzione. Dopo di noi a otto e mezzo Lili Gruber ospita proprio Corrado Augias, che dopo vedremo nella torre di Babele con tra gli altri ospiti Violardone e Michele Serra. Ma dentro otto e mezzo lo troviamo insieme a Giorgia Serughetti, Francesco Specchia e Ferdinando Cotugno. Ci fermiamo. Devo dare una notizia di calcio per l'ultimo match della giornata di campionato. Empoli-Lecce 1-1. Le borse, pochissime mosse. Milano chiude con un più 0,08%. In questo momento Dow Jones più 0,26% e Nasdaq più 0,12%. A Wall Street è tutto. Gruber, Augias, ci vediamo domani sera. Buonasera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.